Grazie, grazie Carmine per la linea da casa d'annunzio, la casa dei giovani del Pescara in compagnia di Andrea Ciconi, presidente del Pescara Calcio Femminile. Le donne assumono un peso sempre più rilevante nella nostra società, i risultati sono evidenti. È il primo anno di vita di questo sodalizzo, di questa squadra, otto partite, quattordici punti, quinto posto. Meglio di così, presidente? Sì, direi meglio di così, non si poteva auspicare, anche perché chiaramente siamo partiti con tutta l'umiltà possibile, cercare di fare un campionato per mantenere la categoria e per crescere in attesa dell'ottimo lavoro che si sta facendo anche nel settore giovanile e quindi di poter poi presentarsi un po' meglio negli anni a venire, per cui in questo momento ci godiamo anche questa piccola soddisfazione di classifica. Queste donne sono facili da gestire rispetto agli uomini? No, assolutamente no, assolutamente no in senso generale. Però devo dire, e non perché sono qui a parlare adesso della nostra squadra, ma che abbiamo un gruppo veramente che sta facendo proprio della parola stessa, gruppo, la forza di questo team. Tra l'altro vorrei ricordare qualche numero, quattro vittorie, due pareggi altrettante sconfitte, quattro vittorie di cui una esterna a Chieti, un derby comunque sentito anche a livello femminile mi pare. Sì, assolutamente sì, insomma con una settimana e più di preparazione anche psicologica, anche da parte degli avversari, il derby è il derby in tutte le competizioni, chiaramente vista dalla nostra ottica siamo stati molto contenti, abbiamo regalato a questa città che vive di questo campanilismo una soddisfazione anche con la squadra femminile. Un campanilismo, lo sottolineo, sano, come dovrebbe essere sempre. Presidente, com'è nata l'idea? E questa è una bella idea. È nata per il fatto che ho dovuto pressare, tra virgolette, il presidentissimo, lasciami usare questo termine, perché è chiaramente il presidentissimo del Pescara, Daniele Sebastiani. Ho dovuto cercare, tra virgolette, di far capire che era il momento forse di guardare anche la femminile con altri occhi, perché la federazione ci punta tantissimo, stanno facendo crescere tutto il movimento. Ricordo sempre che la nazionale è ai mondiali, per dire nella maschile, ahimè, sappiamo com'è andata lo scorso anno. Quindi in tutto questo, perché partire solo con una semplice affiliazione, con una cosa un po' più lenta? Allora ho detto, facciamo il massimo possibile già da questo anno e ci troviamo avanti per il futuro. Ci tengo a sottolineare che anche lo staff tecnico che ho inserito in questa squadra, dico velocemente, il mister Roberto Di Persio, il mister Pingiotti, Mastrilli e il preparatore atletico Mattia Di Pasquale erano già esperti di per sé di calcio femminile, avendo vinto un campionato di Serie C in passato con un'altra squadra. Quindi diciamo che è stato un gruppo che aveva un po' più vita facile per poter iniziare questo percorso. E tra l'altro c'è anche una giovane ragazza nazionale, Under 17, del Rosso se non ricordo male, che parteciperà ai prossimi mondiali. Esatto, il mondiale Under 17 noi ce l'auguriamo e sicuramente fa parte delle 25 che normalmente vengono convocate, per cui è dentro e è chiaramente una grande soddisfazione per noi di Pescara. Motivo d'orgoglio, ricordiamo che naturalmente il Pescara femminile, caro Carmine, partecipa al campionato nazionale di Serie C, sono trasferte lunghe e gravose sotto tutti i punti di vista. Domenica trasferta che chiuderà il 2018 sul campo della Virtus Napoli, si può fare, no? Beh, la classifica dice questo, però il calcio dice altro, quindi noi andiamo concentrati e occhio a qualsiasi sorpresa, per cui mister e ragazze sono avvisate, non voglio tornare sul pullman arrabbiato. Grazie al presidente della Pescara Calcio femminile Andrea Cicconi e buon Natale intanto. Grazie, buon Natale a voi e a tutti gli sportivi pescaresi.